Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un'altra puntata in esterna. Eccoci qua cari amici vicini e lontani, ci troviamo in quel di Viareggio perché andiamo a trovare l'amico Giacomo, ossia titolare della gioielleria Pasquali Domenici, che parte l'ufficiale del canale. E noi andiamo a trovarlo perché ci mette a disposizione gli orologi, ma oggi è una puntata straordinariamente interessante, straordinariamente, tipo Vannamarchi facciamo oggi, proprio una roba di quelle... Cosa andiamo a fare? Cosa andiamo a fare? E perché ti giriamo a me? Lo giriamo al mio capiero che lui ci dice cosa andiamo a fare. Gli orologi Black Friday. Bravo, come a me stavolta lo sai? Me l'avevi detto, stavolta mi hai avvisato. Ah, sono stato bravo. Facci vedere l'orologio del giorno. Formula 1, Tagoyer Formula 1 al quarzo. Rigorosamente al quarzo. Perché? È perché lo fanno solo al quarzo. No, non lo fanno solo al quarzo il Formula 1, però è un quarzo. Un po' vuoi vedere se si vede bene. Sì, più o meno si vede. Io che orologio ho? Flupiti! Ho capito. Guarda qua, guarda qua. Guarda qua, guarda qua. Questo qua è il bellissimo Breitling Cronomat GMT con il suo bracciale a fuciliera. A fuciliera, il bracciale a fuciliera possiamo andare. Come bracciale? A cartucera. Al limite a cartucera, ma sarebbe Rolo, è vero. A Rolo. Quindi oggi puntatona dedicata agli orologi del Black Friday. Puntata veramente interessante perché, a differenza degli altri anni, mettere anche dei marchi elevati. Ah sì? Sì, su certi marchi va proprio su tutta la gamma. Su altri ci sono dei pezzi che vanno in sconto, che sono incredibili. Quindi mi raccomando, Piero, te non fare offerte che conosco la tua situazione economica, poi dopo vieni a piangere da me. Certo. Se non a cosa servi? A proposito di servire a qualcosa, che facciamo? Il caffè. Chi paga? Io. Pago io, pago io. È sempre io? No, sempre tu non è il giusto. Oddio, sarebbe anche giusto. Ma no. Ma no, ma no, ma no, ma no. Guardiamo un po' come si mette, dai. Il tempo è anche bello. Sì. Sì, da noi pioveva. Ma no, ma no, ma no, ma no. Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Buongiorno. Buongiorno! Buongiorno, mi hai messo un po' di poca. Buongiorno, cosa fate voi a quest'ora così fresca? Non sapevamo cosa fare. Ah, ecco. Tieni, questo è per te. Tieni, 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 tieni. Oh, olio del mio paese. Non stai scherzando. Oh no. No, questa è la cosa più pesca. La mia faccia, quella lì. Può vedere? Bellissimo. Uno spettacolo, Piero. Oh, c'hai vergogna? No. No. Ho fatto il regalo più bello che tu mi potessi fare. Questo resto è buona. Ma c'è due. Grazie. L'hai fatto? È proprio mio. È tuo, tuo, tuo. Sì, sì. Perché lo vendi anche? No, no. A Lidl, non l'abbiamo preso. È un buon prodotto però. Ciao. Quest'anno ne ho avuto anche poco purtroppo. Sì. Eccoci qua all'interno della baracchetta degli orologi dove ci sono tutti i pezzi di ferro. Ma è come in questo caso si può dire che c'è una sterminata di orologi che sinceramente, chiaramente non facciamo un tempo a farli vedere tutti, no? Però siccome il Black Friday inizia domani. Inizia domani, sì, sì. Il buon Giacomo, ragazzi, non ve l'ho presentato. Domani che il 22 inizia e cosa ci sarà? Sul sito troverete tutto. Sul sito troverete tutto, addirittura più di quello che vi faremo vedere a sprazzi oggi. Diciamo un pochino perché il Black Friday. Il Black Friday intanto è una tradizione che abbiamo ovviamente acquisito dagli Stati Uniti, perché in Italia non esisteva il Black Friday. Negli ultimi anni è diventato di moda. È diciamo il periodo prima degli acquisti natalizi dove si può fare qualche affaruccio. e ovviamente tutto il prodotto che andrà a finire nel Black Friday avrà uno sconto rafforzato rispetto a quello che vi offriamo normalmente. Su tanti pezzi sarà anche veramente uno sconto eccezionale perché ci saranno sconti 35, 40, 45, 50%. Sicché ecco, orologi a metà prezzo, orologi tra l'altro di collezioni anche piuttosto recenti. Ma anche di marchi importanti. Marchi importanti, sì, 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 assolutamente. Ovviamente abbiamo addirittura, avrete anche qualche pezzo glass suit original nel mucchio, ovviamente qualcosa di più o meno costoso, prezzi di partenza diciamo dai 400 euro da scontare fino ovviamente anche ai 10-15 mila euro da scontare. Sicché ce n'abbiamo veramente per tutte le tasche, ma soprattutto per tutti i gusti, maschili e femminili. Senti, ma inizia domani 22 e poi finisce? E finiamo ovviamente con la fine di novembre perché dal primo di dicembre ovviamente interrompiamo perché diamo la possibilità invece a chi vuole acquistare quello che è lo standard di catalogo, le novità e le ultime uscite di potersi ovviamente dedicare sia noi che voi a quel prodotto lì. Quindi fino a 30 novembre, dai. Sì. E come esempio qua cosa possiamo prendere come esempi interessanti? Ma allora per partire basta pescare a caso. Allora, abbiamo collezioni, per esempio Edox, collezione nuovissima che noi abbiamo in negozio anche da poco. Tutta la linea 38 mm, sono le versioni ovviamente in pelle, sono quelle versioni con quelle colorazioni un pochino più difficili come accostamento, hanno girato rispetto ad altri modelli, ai braccialati acciaio, un pochino meno sicché vi proponiamo un prezzo veramente veramente interessante. Buono Edox. Sì. Questo per esempio per far vedere un'altra colorazione, ma per i più audaci, per chi volesse ovviamente un prodotto più particolare, il cronografo Diver, ovviamente con cassa in carbonio, l'abbiamo già raccontato, tra l'altro una costruzione molto particolare, sicché come vedete ci sono un pochino per tutti i gusti. Edox è tanta roba come marchio al Black Friday, buono 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 buono. Intanto bisogna dire a che cosa serve un Black Friday. A noi ci serve per dare ruotazione ai nostri magazzini, anche perché gli ologi non devono stare più di tanto nei nostri magazzini, perché poi se no, se passa un determinato tempo, vanno incontro ovviamente a revisioni, a cose, l'olio ovviamente, la lubrificatura tende a seccarsi, si parla di anni, questa è merce tutta più fresca rispetto a quel periodo lì, ma si arriva a un punto dove l'orologio deve uscire dai nostri magazzini. Sì che ovviamente anche per una questione economica, per una questione anche vitale dell'orologio, abbiamo bisogno di farli girare. Tutti quegli orologi che sono già usciti da catalogo, o che ovviamente non hanno ruotato magari come dovevano, verranno messi nel Black Friday. Ah, è Federico Stan questo? Strano questo orologio. Sì, questo qui è un orologio che non è più nei cataloghi, è un orologio che secondo me è stupendo, ha la tipicità ovviamente del bilanciere a vista, con la sua finestra davanti, che tra l'altro è stata un'invenzione proprio di Federico Stan negli anni passati. Sicché ecco vi proponiamo un prodotto, questo è un carica manuale, ha una meccanica stupenda, è una loro manifattura che come vi ho detto non troverete più in catalogo, noi ve la offriamo a un prezzo eccezionale. Ovviamente sempre per parlare di Federico Stan abbiamo magari prodotti un pochino più tradizionali, classici, questo qui ha un solo tempo Fasiluna, cassa piuttosto grande di dimensioni, ha un 42, cassa molto classica, cinturinata coccodrillo, ovviamente come vedete è una cassa con una laminatura oro rosa, sicché è un orologio un pochino più difficile, la sua versione acciaio è stata venduta più facilmente, la versione ovviamente con la doratura, ci vuole l'amante, ci vuole l'appassionato di questo prodotto, tra l'altro è un prodotto che devo dire che per estetica rende molto di più di quello che... Comunque i calibri che usa Federico Stan, siano di manifattura o di fornitura, sono veramente ben decorati, è come in questo caso qua. Siamo sicuri che qua il rotore non sia in oro 18 carati? No, 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 perché la cassa è laminata, sicché il rotore non può essere laminato anche quello. Tanto per rimanere sulle casse dorate, laggiù abbiamo degli Junganz, Junganz Ore del Mondo, le abbiamo addirittura in due colorazioni di quadrante, sia chiaro che scuro, ovviamente lo potete prendere a un prezzo molto interessante per le funzioni che offre, tra l'altro ci sono tanti di voi che sono amanti delle Ore del Mondo, collezionano solo orologi con questa funzione alternativa, sicché ecco, perché no? Ora in questo caso Junganz Ore del Mondo, uno dice il quadrante bianco solitamente è meno leggibile rispetto a quello, in questo caso il quadrante bianco è perfettamente leggibile. Ora naturalmente io qua non starò a mettere i prezzi sotto la percentuale di sconto, perché da domani mattina vedrete tutto sul sito web, se vedete qualcosa che vi interessa qua, domani sul sito web c'è tutto a disposizione, sappiate solamente che ci sono addirittura certi marchi che sono a sconto in tutta la collezione, come ad esempio Armand Nicolette. Sì, Armand Nicolette per esempio, ora vi faremo vedere qualcosa di quelli che abbiamo in negozio dove vi offriamo una scontistica un pochino migliore rispetto alla standard, perché ovviamente li abbiamo in magazzino e l'obiettivo è quello di allegger i nostri magazzini, però su tutto il mondo Armand Nicolette, cioè potete aprire anche il sito ufficiale Armand Nicolette, noi vi offriamo per il Black Friday un'opportunità unica, ovvero pareggiamo l'offerta che trovate sul sito ufficiale al 30%, però state bene attenti, quella che trovate sul sito ufficiale, vi dice ma allora non ci dai niente di più di quello che offre Casa Madre? No, vi do molto molto di più. Casa Madre fa un'offerta che è limitata solo ai residenti svizzeri o per il mercato americano. Se voi comprate da Casa Madre praticamente avete lo sconto 30%, però in fase di importazione dell'orologio in Italia vi pagate il 22% di importazione più il Dazio, sicché io vi offro il 30% dall'Italia con spedizione, questo vuol dire che voi riceverete uno sconto secco del 30%, tra l'altro lo potete avere anche sugli ultimi modelli che abbiamo presentato pochi giorni fa, sicché ecco, sullo scheletrato che è stupendo, se lo volete ovviamente io vi offro la solita scontistica. Su questi che vi sta facendo vedere Davide invece avete una scontistica migliorativa rispetto a quello che abbiamo detto prima perché sono già presenti in negozio e visto che ovviamente l'obiettivo è alleggerire i magazzini e ruotare ovviamente il prodotto all'interno dei nostri stock vi diamo qualche offertina in più. Quindi io devo fargli rivedere perché questi qua sono quelli che sono in casa. Sì, sì, ma ce ne abbiamo. Ovviamente qui abbiamo una tavolata tutti di prodotti mescolati, sicché ecco, ce n'è un po' anche qui per tutti i gusti, grandi, piccoli, cronografi, solo tempo, braccialati, i cinturinati. Quindi si fa prima che uno sceglie l'orologio che gli piace e poi chiede se la scontistica è quella maggiorata o quella... No, ma tanto le vedranno. Allora, tutto quello che troverete nella paginata Black Friday avrete la scontistica a vista. Poi sappiate che invece per quanto riguarda Armand Nicolette potete scegliere da tutto il catalogo avrete un 30%, non la troverete nella paginata Black Friday perché caricarla tutta ci vorrebbe troppo. Però potete tranquillamente chiamarci se avete visto e vi è entrato nell'occhio un Armand Nicolette a vostra scelta e noi vi offriamo quella scontistica lì. Poi mi sembra che c'è anche Tutima come... Sì, Tutima per esempio è un marchio di recente inserimento all'interno del nostro parco orologi diciamo che non ha performato su alcuni modelli come si doveva allora noi vi offriamo ve le mettiamo nel Black Friday vi offriamo uno sconto extra per vedere di muovere un pochino il marchio o per potervi dare la possibilità di inserirlo nella vostra collezione a un prezzo un pochino più accessibile e valutarlo dal vivo. Così poi voi che l'avrete comprato e ve lo metterete al polso avete la possibilità di fare proselitilismo e ovviamente farlo vedere ai vostri amici e agli altri appassionati che il prodotto è veramente valido. C'è anche da dire che in queste occasioni qua acquistare gli orologi con un forte sconto poi cosa comporta? Comporta che in futuro il valore residuo ci sarà sempre e tra virgolette hai speso quella piccola quota in più un giorno che lo dovrai rivendere per fare l'esperienza di avere un tipo di orologio. Chiaramente li prende a listino ci perde subito il 22% appena esce dal negozio in questo modo ha la possibilità di avere degli orologi a sconto e poi se un giorno li vuole rivedere ci perderà sicuramente meno che averli pagati a prezzo pieno. Tutti ma altri ce ne sono di belli. Sì, sì, sì voglia tutti ma guarda posso far vedere qui abbiamo un Flieger se lo vuoi anche in una versione più Flieger eh eccolo questo poi è il classico Pilot insomma tuttima è quella casa di Glassute in Germania dove c'è diciamo il centro orologero dell'orologeria teutonica che fa orologi che io assimilo come qualità come costruzione a zin più o meno fa orologi robusti di spessore di qualità che insomma sono adatti per l'utilizzo sportivo e da tutti i giorni difficilmente fanno orologi classici eleganti fini eh c'è anche zin c'è sì mettiamo anche due zin il marchio peggiore a livello di scontistiche del mio negozio eh sì questi qui erano due pezzi che io avevo in stock eh sì che ecco ve le proponiamo con un extra sconto rispetto a quello che vi offriamo di solito eh giusto per sempre per il solito motivo della rotazione di magazzino eh però ecco per chi fosse intenzionato sono dei bei pezzi eh di sì solo questi due praticamente solo questi due sì sì quell'altri poi tra l'altro eh ci sono prodotti loro non variano mai tantissimo i loro cataloghi se andate sul sito te le trovate ancora questi qui esposti però noi vi ci offriamo un prezzo eh top giusto questo qui è quello con la ghiera gold bronze che praticamente è una lega di oro e bronzo sì molto particolare vedete opaca chiaramente i zin hanno tutti quel quelle caratteristiche tecniche che tanto ci piacciono l'utici qua per esempio vedete ha la valvolina per la deumidificazione della cassa interna questa qua è la valvolina che serve alla deumidificazione se vuoi l'utici significa che ha gemeti al secondo fuso orario spalletti di protezione cassa con il trattamento tagment cioè l'indurimento che utilizzano loro sono loro sono tool watch i classici tool watch sono i zin e purtroppo di zin ci sono solo questi due dovete farveli bastare eh sì sarà una corsa un pochino ad accaparrarsi il modello che più piace purtroppo non ho multipli di questi prodotti qui sicché dovrete un pochino eh accelerare noi vi presentiamo questo video dall'indomani eh parte il black friday sicché eh viva forza con la caccia ah gli anonimo 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 ecco abbiamo qualche pezzettino lì abbiamo un epurato eh la versione diver eh del del marchio e poi dopo sempre sempre rimanendo in tema epurato abbiamo anche il nostro limite ed è rimasto qualche pezzo ne avevamo fatti eh diversi erano 20 pezzi ecco lo è turchese questo qualche pezzo è rimasto in magazzino vi diamo la possibilità di acquistarlo con un pochino più di sconto sicché ecco eh secondo me comprate un prodotto veramente unico perché lo trattiamo solo noi eh non il marchio ma questo colore nello specifico eh vi diamo la possibilità ovviamente di comprarlo con una cifra un pochino più accessibile se vi interessa eh potrebbe essere interessante ricordiamo che Armando Nicoletti in casa di Calvary SV26 S-Lite SV200 eh sì S-Lite SV200 anche abbastanza decorati poi ci sarà qualche pezzo Tissot che in questa fase sono qui qualche referenza sul tavolo ma non vi possiamo far vedere perché il Black Friday Tissot partirà praticamente dal 27 28 qualcosa del genere sicché voi seguite il sito verranno aggiunti da quella data lì in poi per policy aziendali io ragazzi non ve li sto a far vedere nel dettaglio perché sono tantissimi e quindi vi rimando veramente al sito web dell'amico Giacomo perché altrimenti qua non se ne esce più sono tantissimi di orologi poi prodottino anche questo abbastanza recente sì sono due prodotti sempre ore del mondo che sono usciti da catalogo cioè almeno a casa madre da fatti uscire tra l'altro il blu è uscito anche veramente da poco però se non è più in catalogo non ce lo voglio tenere neanch'io è meglio che sia sul vostro polso a casa vostra almeno potete inserire un prodotto di qualità veramente interessante ne ho anche un altro modello che poi troverete sul sito e lo potete vedere in questo caso di Zodiac sono questi tre modelli che dici sì tre modelli per quanto riguarda Zodiac oddio quello con la ghiera rossa è guardatemi anche come i garbichi ad antino sì è bello una colorazione tra l'altro l'abbiamo già vista su altri modelli funziona sempre sì sì simpatici sì poi qualche chicchetta così più o meno classica il rado molto bello questo qua nero questo qua nero mi piace tanto che modello come si chiama questo qua fondello chiuso tanta roba sì quello lì era un limited cassa ovviamente ceramica colorazione marrone veramente bello questa cassa ceramica opaca stile anni 60 si matt come la chiamano loro è un logio che a me piace tantissimo mi fanno impazzire bello con questo stile anni 70 le spallette di protezione bello assai questo qua e questo qua invece è più classico è un po' fuori dello stile rado è un classico ne abbiamo due di classici quello lì che ha un pochino più grandi dimensioni con il secondo decentrato questa è una versione un pochino più tradizionale ebbè che inquadrante che c'è questo sì con il bracciale addirittura forse misura più attualizzata rispetto all'altro però ecco sono due prodotti veramente belli entrambi se volete un orologio classico ovviamente si sta parlando di due automatici sì che sì devo dire a vita pochi quartsun mi spiace per Piero in questo Black Friday qualcosa troverete ma veramente si conteranno su una mano quelli da donna che sono anche molto belli anche i diamanti sì il donna esula un pochino dopo le faremo vedere tutto il mondo femminile esula un pochino da tutto il discorso perché la donna si sa che predilige magari qualche diamantino in più rispetto alle meccaniche non è una regola però su statistica funziona così c'è anche questo di Rado non so come mai la Rado ha lasciato in catalogo la sua versione al quarzo identico al quarzo in questa versione qui automatica si che noi la preferiamo è stata eliminata dal catalogo tra l'altro è stato eliminato veramente da poco si che ha comprato un orologio recente come produzione l'orologio è molto bello molto pulito è acciaio questo è acciaio la cassa si praticamente è un mix questi qui si chiamano hyperchrome la linea si però è solo una parte la base è acciaio di quella lì bello è un bello classico così bello bello poi ovviamente tanto per citarvi il marchio ce n'è diversi sparpagliati per tutto il catalogo sono oggetti un po' particolari un login un login questo nella versione sono sono delle categorie di orologi che non fanno più perché la linea è la master collection però era un mix acciaio e oro 18 carati è oro questo si l'oro 18 carati nei cataloghi non esiste più perché si predilige il pvd se ve lo provo perché ovviamente il pvd ha la possibilità di uscire a un prezzo minore rispetto all'oro 18 carati però ovviamente c'è da dire anche che per un periodo i metal mist come si chiamano non erano più stati fatti dalle case madri perché o tutto acciaio o tutto dorato che poi poteva essere una laminatura o materiale vero e invece ora sono ritornati alla moda le stanno rifacendo un pochino tutti sicché ecco veramente interessante il prodotto a me piace molto mi piacciono anche i suoi vlog il posto sta benissimo questo qua è un bel acchiappone da fare acciaio e oro vero la data ore sec così la simmetria c'è e anche se il quadrante è bianco guardate siccome le sfere sono azzurrate la leggibilità è perfetta veramente questo qua è veramente un best buy ragazzi non lasciatelo qua perché bello assai bello poi tanto per continuare a fare la carrellata dei nostri brand e di quello che troverete all'interno del black friday Maurizio Lacroce sì Maurizio Lacroce due prodotti due categorie diverse uno ovviamente ha un icon diver eccolo qua l'icon diver 35 è questo? no 37 37 sì 37 colorazione verde molto bello e poi ovviamente il pontos pontos crono è un orologio molto bello tra l'altro le abbiamo anche in diverse finiture le troverete in diverse finiture sul sito sicché ovviamente forza con la caccia insomma l'icon lo conosciamo tutti ha fatto un sacco di recensioni di tutte le versioni possibili questo qua da 37 diciamo che da 39 e da 42 37 sei sicuro che da 37 37 sì non me l'ha sfuggita l'uscita del 37 39 dici cioè da 39 42 35 secondo me sì da dove si vede bisogna andare sul sito padazzi che sia 39 questo 39 sì padazzi sì perché 43 era la versione grande tra l'altro ce n'abbiamo 42 questo qua è il Venturer il Venturer anche quell'altro è Venturer ah il Venturer non l'ho mica riconosciuto e chiedo scusa ragazzi non è che si può sempre svegli e il Venturer allora sì il Venturer e l'Icon invece a sconto non c'è quello normale no l'Icon a sconto normale ragazzi volete lo pagate dei fior di soldoni hai capito l'Icon rimane sempre il prodotto di punta e come l'Icon il Venturer invece a sconto va di meno sì va di meno il quadrante verde ovviamente tra i diver è quello che è andato un pochino meno sì ma sto qua da 43 e col quadrante bianco invece è proprio bello sì molto bello questo è un GMT sì sì ma deve essere così cioè un diver GMT mi sa che ho fatto anche la recensione del diver GMT simpatico eh beh ragazzi fate Vobis l'occasione per prendere a sconto degli orologi come si deve c'è poi andiamo avanti con la carrellata facciamo vedere qualche bel pezzettino di cose sempre interessante Hamilton tutti gli anni ovviamente sapete che vi inseriamo qualche Hamilton nel questo qua è PVD però questo è PVD sì sempre Metal Myth però col PVD è Jazzmaster questo sì ce ne sarà diversi molto molto particolari ovviamente troverete anche qualche ventura di vario genere il classico jeans che vedete non è più nei cataloghi che a me però piace molto è bello la cosa che a me il ventura jeans questo qua non è al quarzo no? sì sì tutti sono al quarzo non abbiamo più automatici perché l'abbiamo finiti però ecco ci sono diverse versioni al quarzo diverse finiture di cassa braccialati non braccialati sì che ecco per chi per gli amanti del genere il classico ricordiamo che è il nero che non troverete perché il nero è quello che rimane fisso in catalogo che è quello più attinente alla versione storica però ecco se questo qua è il classico modello che molti preferiscono prendere al quarzo piuttosto che automatico anche io lo prenderei al quarzo però ricordiamo come per la X ad esempio sì l'originale era elettrico eh sì poi bellino quello lì molto bellino sì c'hanno questi accenti in oro che magari rimangono dietro per quel motivo lì no se c'è qualche amante però del quadro questo qua poi è in acciaio c'hai gli accenti color oro però insomma è anche sobrio non è che sia sfarzioso va bene comunque poi due prodotti tra l'altro alto vendenti del marchio Mule Glassute Glassute questi qui sono due SAR uno ha un full lumen e l'altro è un quadrante classico nero sono tra i più venduti in assoluto del marchio e questa è la versione con il cinturino in gomma rosso volendo esiste anche il cinturino in gomma nero volendo c'è anche l'alternativa braccialata io avevo queste due versioni qui rosse ve le offro a un prezzo un pochino più particolare poi al prossimo cambio di cinturino potete tranquillamente sostituire col nero e avete la versione più classica volendo potete comprargli anche il bracciale nel futuro tanto risparmiate talmente tanto che quello che risparmiate vi ci viene a gratis Mule Glassute è anche questo uno di quei marchi che insomma è da ritenersi fautore di tool watch sempre come prima come tutti i mac di Glassute anche quella come Zin ecco fatto Mule Glassute loro fanno orologi con impermeabilità elevatissima infatti questo qua 100 atmosfere 100 atmosfere di impermeabilità e tutto sommato lo riescono a fare anche con una certa eleganza perché 100 atmosfere in una cassa così non spessa perché non è spessa per quello che offre è tanta roba qua il quadrante full lume vuol dire che si illumina tutto il quadrante e gli accenti rimangono neri quindi si buono almeno la leggibilità c'è sono interessanti la cassa è in titanio sembrerebbe di sì si la cassa è in titanio in titanio però non è leggero no perché è bello massiccio è quello che danno ai soccorsi ai soccorsi il mare simpatico bello poi due vulcan così ah i vulcan si vulcan due prodotti particolari uno è un solo tempo con allestito e sellita dentro l'altro è un cronografo invece mamma mia però sti qua è una ruba secondo me il cronografo mono push questo si è tanta roba tra l'altro su cassa president che mi piace molto di più rispetto alla vintage la cassa president io la preferisco è un pochino più grande di dimensioni ma secondo me respira un pochino di più aspetta fammi vedere bene questo qua che ci piace tanto guarda qua i numeri a rilievo come sono spettacolari bello questo mi piace e poi c'è il famosissimo è rimasto qualche pezzo della nostra tigliatura inizialmente erano 30 ora ne è rimasto qualche pezzo sicché ovviamente ho levato quello per me e il resto ovviamente quello che è rimasto sono per voi vi offriamo una scontistica migliorativa tra l'altro questo quadrante qui che l'abbiamo fatto fare noi lo preferisco anche al tutto nero con la scala di decompressione dorata che fa casa madre secondo me mi sembra più indicato per essere un diver con questa colorazione qui però i gusti sono gusti sì che fate bobbies come si dice vulcanautical cricket il 1900 non mi ricordo con la ghiera interna che gira con la scala di decompressione c'è anche lo svegliarino c'è anche lo svegliarino è praticamente un cricket diver 300 metri con scala di decompressione scala di decompressione svegliarino bag interna girevole della vulcan fate un po' in edizione limitata di 30 pezzi messo al black flight fate fate vobies se volete un diver come si deve eccola qua questo qua è il controfondello nel quale può risuonare lo svegliarino è stato fatto apposta per aumentare il volume diciamo la vibrazione dello svegliarino quando è in funzione con questo controfondello controfondello cos'è? un pezzo solo Yemah non lo so Yemah? si si un pezzo solo Yemah e chi non lo prende si arrangerà veramente eccezionale comprato un crono con una cifra da solo tempo sicché io direi che a chi piace a chi piacciono i cronografi con ovviamente i suoi pulsantini i suoi contatori questo è un prodotto veramente eccezionale non aveva un prezzo esagerato già di listino con lo sconto poi leccatevi le dita si che poi voglio dire di solito i cronografi sono i più difficili da leggere guarda qua con le sfere gialle così puoi leggere perfettamente sia l'orario che il tempo cronografico perché uno si scappa eccolo qua il cronografo in funzione ci mette in mostra poi le sfere gialle che sono anche gli altri due subcontatori mentre i secondi continui e le ore 9 hanno solamente loro una sfera bianca e fatta differentemente quindi va bene il cronografino si sa quanto sarà di diametro non si sa perché è impossibile sapere tutte le cose a memoria però mi sembra portabile quarantello 41 poi va bene le caratteristiche tecniche ve le studiate un attimo da soli domattina sul sito vedete tutti i prezzi a bomba e poi dite questo vi piace fammi un po' studiare andate a vedere se poi c'è qualcosa che non vi piace lo lasciate perdere Ebel quanto è che non vedo un Ebel Ebel allora anche Ebel andrà a finire nel Black Friday ovviamente ci sono svariati motivi per cui gli orologi possono finire in un Black Friday questo è quattro sì perché per quanto riguarda Ebel aveva un distributore che ovviamente è cambiato non si sa bene nel futuro come verrà distribuita se arriverà un altro distributore se arriverà a casa madre diretta in questo momento di stand by ovviamente si rinnova la collezione sì sì rinnoviamo la collezione alleggeriamo i magazzini intanto gli orologi Ebel sono sempre gli stessi sì che ora è il momento giusto per portarseli a casa a un prezzo è un pochino più interessante se domani ovviamente riaprono la distribuzione i prezzi saranno i soliti i modelli saranno i soliti ma voi ve lo siete accaparrato questo qua è un ruolo che veramente più interessante guardate come sottile il profilo sì eccezionale tutto titanio tutto è una salita sv300 per quegli spessori lì sicuramente questo ve lo voglio provare perché oh guardate un po' come sta il polso a me piace sto qua perché è cioè quadrante nero ghiera nera lunetta lunetta nera questo qua è veramente spettacolare io ogni tanto ragazzi mi soffermo su un orologio che mi colpisce perché cioè gli altri magari li vediamo anche più spesso siccome sto qua non lo vediamo spesso è al polso di listino quanto farebbe mi legge quanto fa di listino allora di listino fa scusate non ci vedo più 2800 euro minchia minchia però poi dopo noi tagli sì mamma mia bello se l'it sv300 eh sì ci sta così sottile così sì bello bello è che leggero è titanio questo sì è titanio poi abbiamo poi abbiamo una selezione di quervi subrinos quervi quervi subrinos cinturinati braccialati quadrati non quadrati ce n'è diversi lì sparpagliati ti invito magari a prenderne qua un altro tiranne su un altro eccolo qui ovviamente sono allora per quanto riguarda l'asturias che era questa linea qui l'istoreador la più venduta erano gli asturias colorati queste erano le versioni base più classiche stessa cassa stesso movimento l'unica differenza avevano dei colori un pochino più classici hanno ruotato meno rispetto al colore sicché oggi ve le offriamo con uno sconto migliore diciamo che come orologio classico forse queste qui sono colorazioni anche più indicate per il prodotto sì sono sobri rimane la stessa cassa con queste asie così belle cicciose barocche in pieno stile cubano cuervi sovrinos bracciale vistoso eccolo qua guardate come lucido oppure poi c'è in torino però con questo quadrante bianco che tutto sommato è leggibile un colore così blu celeste che è veramente sobrio si capisce perché sono rimasti indietro certo che quei quadranti solei come il rosso erano tanti belli belli questi qua sono più sobri sono per gente sobria come me quando non bevi quando non bevi quando non bevo sì eccoli qui due marche uno di produzione nostra uno rotary un pochino magari più conosciuto che ovviamente non 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 produciamo più non teniamo più nei nostri assortimenti sicché ve le ve le cediamo a un prezzo di favore questo qua praticamente sono anni e anni che lo vedo sì 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 la prima volta che venni qua sì sì ne abbiamo fatti fare tanti era un prodotto ovviamente di servizio per chi non volesse ovviamente comprare i classici orologi che si trovano sul mercato e questi qua praticamente li regalate quasi sì quelli quasi li regaliamo sì facciamo anche dei pacchetti se ne volete dieci noi vediamo e Rotary invece che bel marchietto l'avete dismesso sì l'abbiamo dismesso c'erano stati dei problemi anche con la distribuzione tra l'altro è una distribuzione che oggi non esiste più per quanto riguarda in Italia se andate online ancora i Rotary le trovate però poi dopo vendite Amazon vendite di qui vendite di là poco controllo sicché questo qua l'avevo lavoro io l'avevo preso appunto da Amazon sì si trovano tutti lì quando uno vede che ci sono gli orologi su Amazon il negozio è difficile che poi li trovate perché significa che non c'è un controllo di distribuzione che vanno in mano a chi può fare il prezzaccio il 3x2 no allora per dire la verità oggi su Amazon si trova un po' tutto perché dovete sapere che Amazon non è solo un portale di vendita diretta cioè Amazon non è solo un venditore ma è una vetrina sì che tanti poi dopo privati reseller negozianti possono aprire la loro paginata e proporre qualsiasi tipo di prodotto noi come concessionari ufficiali firmiamo dei contratti dove c'è proibito vendere sulle grasse piattaforme Amazon ebay crono 24 però poi dopo ci sono i reseller che ovviamente comprono dai negozianti e non essendo vincolati a nessun tipo di contratto rivendono tramite queste piattaforme spesso e volentieri casa madre compra il prodotto e tra l'altro le bacchetta c'è un problema da sviscerare su questo se è la casa madre che vende su Amazon diciamo il prodotto è sicuro quando ci sono di mezzo i reseller cioè non si sa da chi si compra è successo anche che si è acquistato merce falsa è successo il caso di qualche anno fa di tantissimi Hamilton e se ne è accorta casa madre perché cominciavano ad arrivare in riparazione questi orologi una volta aperti dentro erano fasulli fuori hanno fatti anche abbastanza bene il problema che nessuno è stato risarcito perché Amazon si lava le mani dice la colpa non è mia è colpa del venditore il venditore chiude il profilo e chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato tra l'altro è partita anche una denuncia come si diceva su Amazon si può fare leva perché Amazon è una vetrina non si prende le responsabilità però poi dopo il cliente è stato truffato alla fine questa cosa qua non lo sapevo sì l'altro giorno mi chiamò un cliente ci aveva trovato sopra un tisso poi sono andato a vedere le recensioni del venditore aveva fatto 5 vendite 4 recensioni negative una positiva cioè comprare guardate sempre tutto il profilo del venditore guardate da chi comprate cosa comprate perché prendere oggi delle fregature nel mondo online è veramente veramente facile perché è un mare e nella maggior parte dei casi senza neanche addirittura tutela sì che ecco state attenti erbelen abbiamo messo tutto quello che era in stock nei nostri magazzini questo cronografo è veramente spettacolare il cronografo è spettacolare tra l'altro abbiamo il cronografo lo scheletrato il dual time l'ore del mondo insomma mi sbaglio è quello laggiù sì che ecco prodotti veramente belli la cassa di base cioè la linea di base è il cap camarade sì che ecco prodotto veramente attualissimo l'unica cosa un pochino più particolare a livello di funzioni o di estetica se volete vi offriamo un prezzo particolare tra l'altro c'è anche l'altro la Juul Diver che è uno degli orologi che mi piace di più in assoluto il Newport e questo qui secondo me con questa cassa a cuscino è veramente un orologio bellissimo è stato recepito poco sicché a questo punto se non l'avete forse il prezzo vi sembrava alto difficile decifrare poi cosa si vende cosa non si vende perché si vende perché non si vende sicché ecco se c'è qualcuno di voi a cui piacesse magari ora è il momento giusto per acquistarlo Newport ho fatto la recensione anche io la trovate perché ha una forma di cassa particolare che insomma è super originale ora qua non riesco a fare la ripresa bene perché ci sono dei riflessi ecco così si vede già meglio eccolo qua questo Newport con gli attacchi particolari proprietari del bracciale del cinturino lo vedete eh il diver di casa Erbalen eh ci piace che naturalmente c'è anche uno con la cassa in carbonio si 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 uno con la cassa in carbonio Newport con la cassa in carbonio bello col suo attacco banklift che ne ricorda un attacco particolare che lavora con delle viti fissate sulla parte centrale del lanza del lanza cassa si che è bello assai poi due prodottini in uscita dal nostro magazzino sono ovviamente Victorinox eccoli qui per la gioia di Piero poi sono due Victorinox quarzo oh si tra l'altro qualcuno di questi viene venduto anche con la confezione speciale col coltellino te lo compresti solo per il coltellino vero coltellino ho ragazzo io coltellino i quarzoni sono questi si sono dei quarzoni infatti questo Piero guarda è già eccitato ah si il quadrato si è bellissimo si si c'è anche un cap camarade square colorazione bordeaux al quarzo si che ecco sono domattina sul sito già domattina sul sito ora questo è bene qua si questo Victorinox qua è il classico orologio da campeggio come coltellino lo porti in giro quando c'era lui io me lo dicevi lo si come martello è martello perché sono quasi indistruttibili o perlomeno l'idea è quella poi dopo tutto si distrugge e tutto si crea e nulla si distrugge come disse come disse cosola sono simpatici questi capelloni quanto costano poco e da domani ancora meno 5,65 da domani molto molto meno cioè gli dai anche qualcosa se li pigliano eh sì ve lo porto a casa io anzi vi ce lo porto a Davide vi ce lo porto a Davide toc 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 un Victorinox per lei bello però non lo fai vedere oh signore non devi spendere solo di te Piero no no lo giro ti metto il regalo e poi cosa abbiamo di bello e poi Dulcis in fundo Seiko abbiamo una sola linea da potervi presentare sul marchio Seiko è praticamente la Street Fighter era tutta la linea Street Fighter sì tra l'altro potrete acquistarli singolarmente con un extra sconto da listino sceglietevi erano 6 colorazioni sceglietevi quello che vi piace di più e ovviamente ve lo portate a casa questa è l'occasione è l'occasione cioè ora un'occasione normale no tra virgolette no normale che compra questo orologio qua è difficile è da collezionisti questo ma no puoi essere un amante ovviamente di Street Fighter del gioco puoi essere amante ovviamente dei Seiko 5 Sport magari questa è l'occasione per prenderne uno un po' diverso dal solito oppure semplicemente se dove buttare soldi ti compri una minchia di Seiko questa è l'opera che facciamo tutti con qualsiasi orologio bravo allora siamo in fondo vogliamo dedicare un piccolo spazio al mondo femminile perché ci sarà tantissimi orologi per il gentil sesso non fate i pidocchiosi portatevi a casa il regalo di Natale per le vostre compagne per le vostre fidanzate per le vostre mogli non spendete solo per voi ora questo qua sicuramente da signorina si vede chiaramente ma questo qua può essere anche un bel trucco per un maschiaccio di comprarlo e poi dopo indossarlo anche lui perché semplicemente perché c'ha i brillanti al posto degli indici cioè si può anche usare si può anche usare indossare questo piccolo piccolo però lo comprate per la signora poi ogni tanto abbiamo un po' di tutte le marche lì vedete Longin Rado qui abbiamo Federico Stanto un altro Longin un pochino diverso dal solito e poi che cosa vi posso far vedere ora io la buto lì e lo dico anche al tuo discapito potrebbero anche approfittare per prendere già i regali di Natale metterli da parte certo ma infatti c'è l'obiettivo ovviamente del Black Friday qual è il discorso che non comprate sicuramente l'ultima collezione però spesso e volentieri dalla penultima all'ultima cambia un dettaglio cambia la colorazione del quadrante l'indice così piuttosto che cosa sicché alla fine comprate un oggetto con l'involucro sempre attuale solo vi cambia solo il dettaglio risparmiando un sacco di soldi sicché se non siete ovviamente i fissati dell'ultimo modello riuscite a fare dei buoni affari ci sono ci sono un pochino anche qui in tutte le marche in tutte le salse ovviamente se trovate quello che vi può piacere che può fare il caso vostro secondo me cosa dici Piero cosa vuoi cosa vuoi cosa sono fammelo vedere non lo so sono degli ebel è bello abbiamo fatto vedere sono belli sono belli ma Monica sarebbe bene se glielo vuoi regalare il Natale ci vediamo abbiamo ovviamente sempre per il solito discorso abbiamo fatto sui maschili ebel lo facciamo anche sui femminili gli orologi sono bellissimi che ebel nel mondo femminile lavora ovviamente in maniera splendida cosa vuol dire che sono quarzotti si sono tutti quarzi sul femminile non fanno automatici nella versione fam però l'involucro è veramente bellissimo di ebel tra l'altro colgo l'occasione per dirvi che quest'anno ci sarà una novità sul black friday inseriremo anche la gioielleria che doppiamente frugatevi nelle taschette e fate regalo anche perché vi dico una cosa vi è un consiglio quando il corriere vi porta a casa quelle belle scatolette le signore ghignano allora se volete se volete ovviamente farvi perdonare sì e lubrificare un pochino tutto il sistema lubrificare non è bello però chi lo diceva? la cicciolina ah ok non aveva bisogno e fate un regalino che così sarete perdonati più facilmente abbiamo lasciato dietro questo l'ho preso al volo là questo young guns qua perché è veramente spettacolare questo ragazzi da vedere altro ce ne sarebbe perché poi non sono neanche tutti qui se si sveglia la Fabiana ce ne porta altri qua siamo rovinati sì 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 comunque andiamo sui 180 190 referenze diverse ragazzi la cosa da fare domani mattina voi andate lì aprite il sito lo mandate in crash sicuramente non telefonate ora stanotte perché non sono ancora disponibile no 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 stanotte no non vi rispondiamo neanche e soprattutto non mi chiamate chiedendo le novità gli alto vendenti dei prodotti quello che trovate ancora nelle collezioni il legend diver a sconto vogliamo sì il legend diver a sconto oppure il marf braccialato che ce l'ho fatta a consegnarli l'altro giorno una caterbata non ci sarà ve lo dico prima dovete accontentarvi tra virgolette di tutto questo ben di dio qua che ce ne sarà uno che volevate da tanto tempo to me l'ho chiocchietta a sconto non posso dire di no c'è la scimmietta qua che dice non voglio anch'io e allora dovete prenderlo per forza capito anche perché se siete veramente amanti degli orologi e non trovate gli orologi in questa offerta qui c'è qualcosa che non funziona se però siete amanti dell'ultimo minuto del prodotto dell'ultimo minuto qui non ci sarà voglio un iPhone di 12.000 invece che quello prima vabbè arrangiate un po' ragazzi io non è che posso stare qua a pettinare i giaguari e a accarezzare le bambole devo andare a vedere i gattini su Instagram che è una cosa imprescindibile quindi io vi ringrazio per aver assistito a questa puntata un pochino la vanna a marchi no da corda come diceva e vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love e vi ringrazio